Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia, siamo in semifinale di Champions League, non è possibile ma è possibile, è così, siamo in semifinale di Champions League, è finita 1-1 tra Napoli e Milan, è finita 1-1 oggi, 2-1 nel complesso di queste, nel complesso generale e addirittura è finita 6-1 per noi in tre partite, perché la Champions League evidentemente è ancora casa nostra, tutti è casa lei, cantano nella curva sud, si è sentita solo la curva sud durante la partita, si scioglono i bandieri e i tamburi, non li abbiamo visti, non hanno fatto differenza, non ha fatto differenza, si merca assegnato un grande gol, ma non ha fatto differenza, il Milan pareggia 1-1, pareggia anche tra l'altro con merito perché è normale che poi una partita dopo il gioco del Milan cambia, ma prima il Napoli parte fortissimo, parte molto molto forte, Milan regge e il Napoli crea senza avere occasioni nitidissime, poi Milan inizia a prendere campo, tanto se ho visto un grande Milan, è meraviglioso ragazzi, siamo in finale di dicembre, siamo meravigliosi, poi Milan prende campo, l'EA è devastante, guadagna un calcio di rigore, che purtroppo Giroud sbaglia, è successo di tutto in questa partita, di tutto, Giroud sbaglia il calcio di rigore perché merete bravo a parare, poco dopo però l'EA riparte nuovamente in velocità, salta qua tutta la difesa e appoggia Giroud che è solissimo in linea di rigore, la mette dentro, a quel punto ovviamente il Milan abbassa il baricentro, il Napoli alza, inizia ad attaccare e rende la vita complicata al Milan, ma occasioni nitide, vere, propria, enormi, clamorose, cioè sono un paio, una o due, non di più, il Milan gestisce bene, mantiene un livello di attenzione alto, alla fine l'EA era distrutto e è stato sostituito, poi c'è un calcio di rigore per il Napoli su un intervento sbagliato di Tobori e il Mignone all'ottantesimo para, chissà cosa sarebbe successo altrimenti, perché poi in pieno recupero al 93esimo smenno trova il gol del pareggio di testa, che però per fortuna non vale nulla, perché il Milan è andato a vinto 1-0. Ora, fatta la cronaca della partita, faceva anche un po' di commento quella partita, e un po' di commento a tutto quello che è successo prima di questa partita. Il Milan è arrivato a questa partita con un ambiente incredibile, sentendosi dire da tutti e da tutto che aveva rubato la partita di andata. Al momento dei sorteggi i tifosi del Napoli dicevano siamo già a Istanbul, non sono nessuno, dicevano che ridevano, hanno esultato a Castelvolturno, che se ne dica, perché in quel momento lì l'inviato Sky a Castelvolturno ha detto che c'è stato un boato quando è stato fatto il sorteggio. Di conseguenza non ci vengono a dire che non erano contenti di prendere il Milan, ma il Milan è sempre il Milan. Se il Milan sulla spalla ha il numero 7 o qualcosa significa, è sentirsi dire da gente che giocava per la prima volta un quarto di finale di Champions League, non sono nessuno, è gravissimo, non si può fare, è il karma che colpisce sempre nel calcio, ha punito e ha mandato il Milan. In semifinale, non c'è nulla altro da dire, questa è la realtà, perché ne potremmo dire a migliaia, le hanno dette di tutti i colori, le metteremo tutte, godetevele perché le mettiamo tutte adesso, le abbiamo conservate. C'erano le bandiere con scritto Napoli campione d'Europa che circolavano dopo il sorteggio, le bandiere con scritto Napoli campione d'Europa. Adesso quelle bandiere purtroppo possono andare a finire tranquillamente nel cestino, perché il Napoli campione d'Europa, a meno per quest'anno, non lo sarà. Forse non lo sarà neanche il Milan, fa niente. Intanto noi andiamo a giocarci la semifinale, sarà l'Inter, non lo volevamo nei quarti, non lo avremmo voluto in semifinale. Se l'Inter sarà, ce lo prenderemo. Lo dovremo affrontare con coraggio, come abbiamo affrontato il Napoli. Sicuramente il Napoli sappiamo essere più forte dell'Inter, perché il Napoli lo sta dimostrando in campionato di essere più forte di tutti. Ma il Milan ha fatto una partita gagliarda, di garra, di cazzimma. Ieri dicevano che la cazzimma parteva a Napoli. La cazzimma oggi è stata il Milan, perché il Milan ci ha messo veramente tanta cazzimma in questa partita. Ha retto l'urto iniziale, che era la cosa più difficile. L'avevamo detto un po' tutti. Se il Milan, intanto la curva sud, pensa già al derby. Pensa già al derby della curva sud. Vediamo. Io ho ancora una speranzia, una piccolina, che si debba andare a Lisbonia, ce l'ho. Però vediamo cosa sarà. In ogni caso, partita dei singoli, meraviglioso Calabria. Signori, Calabria ha annullato a Quarazchelia. L'abbiamo sentito per mesi, per mesi, che Quarazchelia era meglio di Leao. Su tre partite, Leao ha dimostrato di essere tre spanne sopra Quarazchelia. Così come abbiamo sentito per mesi dire che le batte al centrocampo del Napoli erano superiori a quelle del Milan. E invece il Milan ha vinto tre partite su tre, annullando il centrocampo del Napoli. Abbiamo sentito per mesi paragoni tra Ossimen e tutti gli altri. Ma Ossimen oggi, ci avevamo detto che il Napoli senza Ossimen, tanto il Napoli oggi con Ossimen il turno non l'ha passato. Ce l'avevano detto che Tornandez non era a livello di Di Lorenzo e invece Tornandez fa una partita meravigliosa oggi. È stato tutto fantastico. La difesa ha retto bene, peccato per quel rigore che causato da Tomori. Ma chi era? Ha fatto una partita strepitosa e straordinaria. Bravissimo anche Brian Diaz ancora una volta tra le linee. Bravissimo, il Calabria l'ho detto, bravissimo Kier che ha fatto una partita da leader enorme. Non ha sbagliato nulla, chirurgico, perfetto. Una partita anche per... È difficile dare dei voti più bassi del 7 oggi, ragazzi. Non ci sarà nessuno sotto il 7, forse neanche sotto il 7 e mezzo. Ci devo pensare perché in questo momento non mi viene nessuno in mente. Tonali ha spadroneggiato al centrocampo. Brian Diaz ha annullato chiunque, ha catalizzato ogni pallone. È stata una partita bellissima, bella partita, bello sport del calcio italiano. E quel karma ha colpito anche perché... Ieri molti erano andati sotto l'albergo del Milan, inutilmente perché Milan ha dormito tranquillamente. Ma erano andati sotto l'albergo del Milan per andare a disturbare i rossoneri che sono entrati in campo. Non provocatelo Raffaeleao, ragazzi. Non provocatelo. Perché è successo prima del derby di andata e Leao ha risposto. È successo a Reggio Emilia l'anno scorso e Leao ha risposto. È successo prima della partita di campionato con Napoli e Leao ha risposto. È successo ieri e Leao ha risposto. Di conseguenza è un po' un rimpianto e un aspetto positivo. Quando Leao vuole fare la partita non ce n'è per nessuno. Però il rimpianto è perché non gioca sempre in questo modo. Ha queste potenzialità. L'assist, abbiamo letto anche su Twitter il commento di Giovin Steiger che diceva che l'assist di Leao a Giroud è uno dei più belli che abbiamo mai visto sul campo di calcio. E resterà nella storia perché un assist del genere fatto in una competizione come la Champions League dove vede tutto il mondo non può che non rimanere negli annali e nella storia di questo sport. Leao è un giocatore meraviglioso e Kvaraschelia è fortissimo perché ogni volta che prende palla fa paura ma in questo momento su tre partite Leao ha dimostrato di essere ancora superiore a Kvaraschelia e non a caso l'anno scorso è un MVP. Probabilmente quest'anno Kvaraschelia sarà comunque un MVP della Serie A perché il Napoli vincerà con merito lo Scudetto e lui ha fatto una stagione straordinaria. Però quando Leao è in giornata, quando Leao si accende, signori è un top player. È un top player di quelli che ti fanno la differenza in Champions League. Da tanti anni il Milan non aveva giocatori di questo livello. Adesso forse non ce ne rendiamo conto perché il progresso di crescita è stato troppo veloce. perché tre anni fa il Milan non giocava la Champions, siamo in semifinale. È una cosa che è difficile da realizzare, da comprendere. Non ce ne si rende conto. Il Milan è in semifinale di Champions. Forse aiuta, rende l'idea il fatto di capire che il Milan in semifinale non ci andava dal 2007 quando poi la vince la Champions League. Il Milan ha vissuto anni terribili, viene da anni terribili alle spalle e oggi torna in semifinale di Champions. Non ci si rende conto di quello che sta succedendo a questa squadra e quanto velocemente sta migliorando questa squadra. Certo, il sorteggio forse qualcuno dirà è stato favorevole però prima di vedere le partite chi avrebbe detto che il sorteggio è stato favorevole? Nessuno. Quindi, saranno anche una squadra italiana ma erano una delle squadre indicate come il potenziale vincitrice della Champions League. Di conseguenza, ragazzi, non c'è niente da dire. Siamo in semifinale, siamo tra le migliori quattro d'Europa con merito perché comunque il Milan merita di essere dov'è e la squadra campione d'Italia è in carica e l'ha dimostrato anche oggi sul campo. Siamo contenti, siamo felici e il karma colpisce sempre perché se sei qua io non voglio mancare di rispetto però, ironicamente, visto che loro l'avevano detto se qua qualcuno è nessuno, di certo non siamo noi. Un saluto a tutti, ricordatevi che siamo campioni d'Italia e forza mia, ragazzi.